Cari amici ben ritrovati su Meteo Giuliacci, un cordiale saluto dal vostro Giuseppe De Vitis. Cosa succederà nella giornata di giovedì? Tende a migliorare il tempo al nord, anche se ancora ci sarà qualche nuvola e qualche precipitazione, ma comunque netto miglioramento. Il maltempo dove? Guardate sulla Sardegna, sulla Sicilia, soprattutto nella seconda parte della giornata, su tutto il versante tirrenico, si inverso le regioni meridionali, un po' più a riparo il versante adriatico e ionico, sì, almeno nella prima parte della giornata. Attenzione appunto, sull'Italia centrale ancora rovesci di pioggia e temporali, con fioccate oltre 1.200-1.300 metri. Insomma, perturbazione che va, lo sappiamo, perturbazione che viene, però quantomeno in alcune zone, come per esempio al nord, ci sarà un temporaneo miglioramento. Arrivederci.